Amici di News F1.it e di Formula One Garage, buonasera e benvenuti a questo consueto appuntamento sull'analisi tecnica della Formula 1, stasera in onda eccezionalmente di martedì e a ranghi ridotti, puntata numero 70, non ci sarà Matteo Mazza a condurre, non c'è Alberto Heimann, c'è però anche in forma sbagliante il nostro Werner Quevedo, ingegnere meccanico, esperto di materiali compositi, buonasera Werner. Ciao Massimo e ciao a tutti. Allora, ci siamo perché è cominciato finalmente il mondiale della nuova era 2020-2022, come dicono gli inglesi, è iniziato col botto, sia per la Ferrari e il Maranello che per la Red Bull, anche se in un altro senso, veramente. Tu da tecnico e da tifoso, se riesci a scendere nelle tue personalità, come hai vissuto la gara e come hai visto la gara? Allora, io purtroppo ero fuori, quindi ho chiuso tutti i social, tutto quello che mi era possibile l'ho vista indifferita. E poi se fanno 22 gare così io non ci arrivo a fine anno, io mi schioppano le coronare prima perché non potevo credere a quello che stavo vedendo. Magari è un caso, le altre gare faranno schifo, ma complimenti alla FIA perché ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissata, quindi duelli in pista, gare bellissime e il DRS probabilmente serve perché il bello è stato anche a causa del DRS. Comunque non so se ho perso Massimo o se avete perso me, spero di aver perso Massimo. Stavo dicendo, gara stupenda, gara fantastica, poco da dire. Io avevo predetto primo posto Leclerc, secondo posto Sainz, terzo posto Verstappen, c'ero quasi, fino a due giri dal termine diciamo che avevo azzeccato la previsione, quindi gara veramente stupenda, mi sono emozionato tantissimo, ammetto che mi sono commosso alla fine perché veramente mi mancava vedere Ferrari vincere e dominare, ho sofferto durante le fasi di sorpasso tra Verstappen e Leclerc, ho maledetto gli strateghi Ferrari, poi ci arriveremo perché non mi potete fare queste cose, cioè è andata bene, allora passo da tifoso, vestito di rosso, c'è anche qualcuno che mi ha accusato di essere anti Ferrari però boh vabbè, passo da tifoso a tecnico. Allora io voglio sottolineare cosa è andato male perché dire bravi tutti è troppo facile, focalizziamoci su cosa è andato male per la Ferrari. Allora strategia, la strategia Ferrari non è stata eh inappuntabile perché eh parlavo della strategia Massimo. Sì. Allora intanto eh la Ferrari era nettamente non era nettamente ma era un po' più veloce. Leclerc costantemente mangiava uno due decimi a Verstappen, uno due decimi a Verstappen. Farsi fare una volta l'Undercut ci può stare. È la prima gara dell'anno, gomme nuove, vetture nuove, eh tante cose nuove. Farsi fare l'Undercut una volta ci può stare. Ma farselo fare tre volte è inaccettabile. Anche due perché l'ultima è stata è stato un Undercut che poi se non ci fosse stata la Safety Car non sarebbe diventato Undercut. Però il secondo Undercut quando si sapeva che le gomme erano a termine di vita lì Ferrari sarebbe dovuta rientrare un giro prima ed evitare la seconda situazione perché tanto di cappello mi metto un cappello solo per togliermelo davanti alle Clerc che è stato fantastico, straordinario, meraviglioso. Io odio quando lo chiamano il prescelto, il predestinato ma è stato veramente fantastico e fantastici anche i meccanici Ferrari perché buona parte della vittoria è stata loro perché sono riusciti a recuperare quei cinque decimi che gli avevano fatto perdere gli strateghi, più di cinque decimi e le Clerc in pista è stato un pezzo di ghiaccio. Un pezzo di ghiaccio perché in quel momento poteva sbagliare, poteva andare fuori, poteva spiattellare le gomme, poteva toccare Verstappen, poteva perdere tempo, è stato, io sono fan, mi ha ricordato Rossi a Laguna Seca con Stoner. Stoner che lo passava sul dritto e Rossi che lo ripassava in curva. È stato uguale perché Verstappen lo passava sul dritto col DRS e col motore ci arriveremo e le Clerc tranquillamente sapeva che poco dopo lo ripassava. Sono andati avanti così. Le Clerc è stato proprio fantastico a guadagnare cinque mezzo decimo, mezzo decimo, un decimo, mezzo decimo fino a uscire dal DRS e lì uscito dal DRS è finita. È un po' artificiale questo concetto che il secondo di gap fa la differenza perché abbiamo visto anche dopo con dopo la ripartenza prima che Verstappen rompesse il motore e Sainz doveva stare sotto il secondo perché se no quando davano il DRS non c'è riuscito è stato un secondo e cinque centesimi sopra il secondo quindi non ha avuto il DRS e non è riuscito ad attaccare Verstappen. Questa cosa è un po' troppo on off per i miei gusti. Però allora torniamo strategia Ferrari non mi è piaciuta perché il secondo undercut era assolutamente evitabile. Anzi fammi la domanda che so che me la volevi fare sulla safety car. Sì appunto cosa sarebbe successo se effettivamente l'ultimo pit stop perché Verstappen alla fine si era fermato in anticipo. La Ferrari, i strateghi della Ferrari hanno deciso di coprirsi con Sainz anche se non abbiamo ben capito perché e invece hanno deciso di lasciare fuori Leclerc che molto probabilmente se non fosse entrata la safety avrebbe tirato fino alla fine come va va. Tu come l'hai vista questa mossa? Io ammetto di non averla capita perché io avrei lasciato in pista sia Sainz che Leclerc. Leclerc aveva a dieci giri dalla fine sostanzialmente un pit stop e tre secondi quindi circa 30 secondi 27 secondi di vantaggio su Verstappen. Vuol dire che Verstappen gli doveva recuperare tre secondi al giro e ricordiamoci che gli ultimi due tre giri Verstappen li avrebbe fatti con delle gomme alla frusta quindi al termine della vita quindi quelle gomme potevano permettergli recuperare così tanto ma all'inizio i primi due tre giri poi man mano andavano degradando quindi d'accordissimo a lasciare Leclerc in pista non sono d'accordo all'aver fatto rientrare Sainz. Sainz in quel momento era diventato secondo ed era terzo. Facendolo entrare in box significa che bene che andava finiva terzo perché chiaramente esattamente perché proteggere il terzo posto fanno rimanere in pista anche a Sainz. In primis ti può rallentare Verstappen perché per quanto sul dritto o abbiamo visto l'ultima gara dell'anno scorso Perez che ha fatto questo giochetto con con Hamilton e ci hanno vinto il mondiale quindi non è che sto inventando strategie innovative lo lasci in pista se va bene e il degrado delle gomme rosse di Verstappen è eccessivo lo tiene dietro e ti fa primo secondo così facendo era matematico terzo poi sappiamo quello è successo ma ha fatto ha cercato di proteggerlo a questo punto non da Verstappen perché è rientrato in pista dietro Verstappen ma da Perez che era ulteriormente dietro perché anche Perez era entrato in box quindi è una mossa che non non ho capito sinceramente non ho capito quindi se gli strateghi Ferrari me la vogliono spiegare io sono sempre disponibile. Indirizzo email di Verder ce l'hanno allora eh ma proprio alla luce di di quello che dici prima anche del motore quanto vale per te in termini tecnici la vittoria della Ferrari quanto è vera quanto quanto c'è di di buono di 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 positivo in questa vittoria a livello tecnico? Allora a livello tecnico la Ferrari è stata la miglior macchina in pista non si discute perché eh la Ferrari riusciva a rosicchi a mangiare costantemente uno due decimi alla Red Bull costantemente con tutti i tipi di gomme tutte quelle che hanno messo insomma che avevo predetto che non si sarebbero viste le gomme dure infatti le ha montate solo Mercedes ma le ha messe per pochi giri rendendosi conto che facevano erano inadatte quindi eh Ferrari macchina migliore in pista macchina che si può migliorare di pochissimo anche solo da con gli specchietti perché gli specchietti Ferrari sono molto semplici e sono convinto che anche loro monteranno gli specchietti con la cornice che ricordiamo non ce li ha solo Mercedes guardate quelli Red Bull che bel di Apason che c'hanno ad esempio ma a parte i motorizzati Ferrari tutti hanno eh infatti sono convinto che Ferrari ha i i tre progettisti Haas eh Ferrari Alfa Romeo abbiano diciamo eh letto insieme il regolamento forse oppure si siano fatti delle domande e date delle risposte tra di loro gli specchietti Ferrari sono molto plain molto semplici sicuramente si evolveranno quindi proprio perché il flusso lì la Ferrari lo vuole buttare proprio in quel buco che c'ha sulle pance penso che questo possa aiutare Ferrari mezzo decimo io lo stimo così nel vantaggio che possono dare gli specchietti però per una macchina che già un decimo e mezzo avanti alla Red Bull passare a due male non è negli anni Ferrari non ha mai avuto non è mai stata sviluppa brava a sviluppare la macchina speriamo che quest'anno cambino le cose perché sarebbe un vero peccato è andata bene perché in questo momento il rivale più pericoloso ha delle grosse gatte da pelare il rivale meno pericoloso ha conquistato più punti però sapete al momento Mercedes eh sembra proprio tanto in difficoltà tutti motorizzati Mercedes e due indizi non fanno una prova ci vogliono tre indizi noi abbiamo eh tre indizi che fanno la prova che Mercedes e il suo motore è in grosse difficoltà tra l'altro ecco parliamo di motore ehm lift and coast di Leclerc hanno risparmiato tantissimo il motore sul dritto penso che abbiano sedato Leclerc perché io in duello eh fare quello che ha fatto Leclerc quindi lasciare andare l'avversario con differenze di velocità pazzesche 44 km orari differenza ci sono state a un certo punto cioè è una strategia da pazzi però non da pazzi non sto criticando Ferrari Ferrari ha vinto la gara quindi sapevano alla perfezione quello che stavano facendo io non so perché l'hanno fatto è la prima volta che usavano questo motore volevano evitare che esplodesse lo vogliono controllare vogliono far sì che duri tanti gran premi quello che mi ha stupito del motorone Ferrari è l'uscita di curva non solo sulla Ferrari basta vedere che la velocità più alta all'intermedio uno era di Magnussen che ha il motore Ferrari che ha non sa neanche come è fatto la Formula uno perché è arrivato ieri praticamente la AS già praticamente potrebbe aver concluso il campionato perché quest'anno ha già fatto dieci punti è terza in campionato complimenti a complimentissimi alla AS tra l'altro e quindi sono sono molto soddisfatto del motore Ferrari con questo grosso punto interrogativo sulla velocità di punta perché molti mi hanno detto eh vabbè ma Ferrari aveva più carico attenzione il motore Ferrari murava a 280 km orari proprio in alcune situazioni sembrava proprio che alzasse il piede e quella non è una questione di carico anche perché le Clerc eh allora Francesco Ferrari eh quei 44 km orari di differenza sono quelli che sono stati rilevati dalla telemetria durante la gara quella grafica che vediamo che non è precisissima però Verstappen lo sverniciava proprio si vedeva si vedeva sul dritto abbiamo visto tanti duelli sul dritto ma nessun'altra macchina si avvicinava così tanto in così poco tempo proprio Verstappen poteva partire nove decimi e li mangiava tutti sul dritto solo Verstappen sulle Clerc quindi sicuramente in Ferrari sanno quello che stanno facendo io non lo so mi posso fare delle ipotesi forse vogliano risparmiare il carburante per la fine della gara forse vogliano risparmiare il motore forse sapevano della propria superiorità anche se io sinceramente se dovevo spremevo un po' il motore lo spremevo quando mi superava però sicuramente sanno quello che stanno facendo quindi complimenti a Ferrari dal punto di vista tecnico assolutamente inappuntabile macchina tanto di cappello Ferrari e Leclerc progettisti Ferrari progettisti Leclerc 10 e questa è già un'ottima notizia se sanno quello che fanno effettivamente visto le passate stagioni hai nominato prima la Mercedes una sicuramente non tra i bocciati del gran premio visto che la Red Bull è riuscita in due giri a fare di peggio però quantomeno un filino sottotono dove questa vettura questo spauracchio agitato dietro le quinte di questo sicuro che in Bahrain si presentava e sbaragliava tutti poi qualcuno visto che Hamilton e Totone Wolf ci hanno abituato sempre a nascondersi e giocare al gatto col topo no siamo in difficoltà qualcuno magari si aspettava che effettivamente in gara in qualifica Mercedes tornasse ai posti alti della classifica che le competono invece debacle non dico clamorosa però tanta 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 difficoltà se poi guardi come dici giustamente tu anche l'altra motorizzata Mercedes che in fondo alla griglia, in fondo alla classifica c'è qualcosa che non va da quelle parti permettimi una cattiveria quando Ellison ha detto che qualcuno aveva cannato il progetto sapeva benissimo di cosa stava parlando penso che il problema di Mercedes sia al fondo perché hanno risolto il forepoising riducendo le performance della vettura risolvere il forepoising è facile però lo devi fare senza ridurre le performance della vettura se no non hai risolto niente quindi secondo me è quello il grosso problema si sono concentrati sullo sviluppare due vetture mentre Ferrari ha battezzato la macchina e si è dedicata alla microaerodinamica la Mercedes si è dedicata alla macroaerodinamica che funziona è una cosa intelligente dedicarsi alla macroaerodinamica ma il forepoising è un effetto inaspettato che gli ha, usiamo un termine tecnico, sputtanato il progetto perché hanno grossissime difficoltà a gestire lo stallo del fondo non è una cosa che da una gara all'altra riusciranno a risolvere anzi c'è il rischio che in gare come Monte Carlo in cui si deve viaggiare più alti da terra siano ancora più in grosse difficoltà anche se Monte Carlo è molto più in là e vediamo, vediamo in questo momento Mercedes deve rincorrere sono bravi a rincorrere sono convinto che nella seconda metà di stagione saranno forti però metà di stagione secondo me se la giocheranno per recuperare il gap secondo me sì anche perché comunque la scelta dei pesi in alto secondo me tende un po' a rovinare quello che abbiamo visto ieri con la Mercedes che ha messo la gomma bianca e poi l'ha tolta subito una cosa del genere da Mercedes non la ricordo proprio un cannare completamente usavamo sempre questo termine sbagliare completamente la gomma utilizzare una gomma che non si comporta come prevedi è un errore dico una cattiveria da Ferrari dell'anno scorso non da Mercedes lo volevo dire io non mi sono molto sulla lingua meno male che l'hai detto io sono molto non ho peli sulla lingua perfetto abbiamo parlato appunto di Mercedes in difficoltà McLaren neanche a dirlo perché veramente nessuno ci aspettava di vederla così indietro e così in difficoltà il miglior pilota Aston Martin è stato Vettel a casa col covid quindi sì anche Vettel penso abbia tirato un sospiro di sollievo per non essere presente in una situazione del genere pensi che ci sarà spazio magari a Jedda sicuramente no però più avanti qualcuno porterà svilupperà cercherà di fare qualcosa nonostante il budget cap per uscire da questa situazione Mercedes in primis con il fondo McLaren forse tirare una linea e ricominciare da zero quasi allora intanto i team principal non sono dei pazzi scelerati che hanno buttato tutti i soldi per fare la vettura senza tenersi qualcosa per lo sviluppo chiaramente chi era più sicuro dello sviluppo avrà tenuto di meno da parte chi aveva speso di più cioè chi aveva il contrario insomma mi avete capito quindi sicuramente i team si sono tenuti qualcosa in tasca proprio perché è un progetto nuovo non avevano mai toccato pista queste vetture quindi nessuno può dire faccio una vettura e sono sicuro che durante l'anno non avrò bisogno di svilupparla sarebbero dei pazzi scriteriati quindi sicuramente tutte le vetture svilupperanno non a Jed appunto perché come hai detto tu non c'è il tempo fisico però già quando si tornerà in Europa ci saranno tanti aggiornamenti per le vetture vedremo tanto lavoro sul fondo e vedremo anche secondo me tanto tante alette che spunteranno sul telaio questo è un un topic un argomento che la federazione dovrà sicuramente valutare perché quest'anno ok il regolamento è questo ma l'anno prossimo va inserita una norma anti alette perché altrimenti abbiamo la zona centrale della vettura che diventerà stile 2021 tutta una sfizza di alette cioè mi immagino una specie di porco spino di alette sulle vetture perché già se vediamo Mercedes quel la cover del del conno laterale è diventata un porco spino di alette cioè un'aletta ogni due centimetri praticamente ok a proposito sempre di rimanendo sul tecnico quel pezzo di carrozzeria che è volato via dall'alpine in pieno rettilineo come te lo spieghi? allora la Formula 1 non utilizza delle viti normali per connettere i pezzi di carrozzeria si usano degli agganci rapidi che sinceramente io trovo abbastanza sono estremamente costosi ogni sede ogni ricettacolo costa sui 20 euro immaginate quante ce ne stanno su una vettura e sono degli agganci rapidi che permettono di svitare le viti tutta la vite con due o tre giri non di più questo è uno standard che viene utilizzato praticamente da tutte le vetture di Formula 1 sono la parte che si trova sotto diciamo è filettata con rivettata questi ricettacoli sono rivettati sul carbonio o si sono dimenticati di di avvitare qualcosa può capitare nella durante le qualifiche durante le prove anzi tu metti questo tu metti quello magari il meccanico si distrae è convinto di averli messi tutti invece non li ha messi tutti oppure c'è qualcosa di di molto strano perché anche se se cede un fissaggio gli altri dovrebbero reggere anche perché se fosse successo in gara dopo cento giri ok ma durante le prove mi è sembrato molto strano e mi è sembrato anche molto strano che Alpine avesse solo due pezzi per parte per produrre un pezzo così ci vuole una giornata lo so perché è il mio lavoro quindi per produrre quel pezzo di fiancata ci vuole una giornata letteralmente quando gli è volato via il venerdì potevano farlo in Francia e farlo spedire se non avete fornitori che sono in grado di farlo venite a noi ve lo facciamo in giornata senza problemi senti una una domanda su questo nuovo regolamento tecnico eh questa nuova era questa rivoluzione del reparto aerodinamico per favorire così almeno era l'intenzione dei tecnici FIA eh i duelli quindi seguire le vetture senza più disturbo aerodinamico il deficit aerodinamico per chi segue sicuramente si è visto qualcosa già di di importante abbiamo visto alcuni sorpassi in curve dove lo scorso anno era impossibile tentarlo semplicemente perché nelle S nei curvoni precedenti era impossibile stare attaccato a quello che ti seguiva quindi da questo punto di vista tanto di cappelle tecnici per ora l'idea funziona però siamo sempre lì sotto il secondo cioè se il il come si dice la tagliola del DRS del 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 secondo se vai fuori quella tagliola sei sei salvo penso anche all'Eclerc bellissimo il duello con Verstappen tutto frutto del DRS per entrambi poi alla fine perché poi anche l'Eclerc l'ha risorpassato negli stessi anticipi sfruttando sicuramente un'uscita migliore perché ha lasciato andare Verstappen in profondità nella staccata però poi io credo che nessuno dei due lì senza DRS sarebbe mai riuscito a a fare un sorpasso allora purtroppo purtroppo è vero che si è limitato l'effetto della scia ma non puoi far sparire la vettura davanti quindi è inevitabile che un un elemento sia necessario che poi sia il DRS a me non fa troppo piacere io metterei un elemento aerodinamico non è una cosa facile ma permetterei un elemento aerodinamico che in caso di disturbi permetta di scaricare l'ala qualcosa del genere diciamo qualcosa che non sia così netto non pretendo di dare una soluzione che non c'è però qualcosa che non sia così netto tra 999 di distacco e 1001 di distacco che faccia questa differenza clamorosa quindi quella è secondo me la federazione deve lavorare su questo punto proprio perché il DRS è comunque una cosa artificiale artificiosa non piace c'è questo gioco del secondo che non è una cosa che vedono solo i tecnici lo vede anche il tifoso non è una cosa nascosta tra virgolette il tifoso magari della gomma rossa gialla viola hanno le gomme chi se ne frega hanno le gomme morbide non lo capisce però lo vede il tifoso che è una lotta non contro l'avversario ma contro lo staccare magari un po' dopo per avere un stucche sembrate in videogiochi quando combatti contro il fantasma quando c'è il ghost del tuo avversario e quindi tu non stai cercando di superare il tuo avversario ma stai cercando di superare il ghost a un secondo del tuo avversario è una cosa che non mi fa impazzire la federazione ha preso un'ottima strada per questa gara dieci anche a loro sicuramente però se si potesse eliminare questo DRS sarebbero perfette difficile però la speranza è sempre l'ultima a morire come si dice sì non mi piace dire come si fa adesso con le energie rinnovabili aumentiamo il solare aumentiamo l'eolico cose che in teoria funzionano in pratica sono difficili da realizzare perché ci sono limiti fisici quindi un elemento come quello che ho detto io ok pensarlo è un conto realizzarlo è un altro però la FIA ha messo dentro tanta gente tanta gente capace e quindi secondo me ci possono riuscire pensi anche che l'ultima staccatona che Verstappen ha tentato su Leclerc dove ha bloccato poi il primo interno fosse stata dettata dalla mostra di disperazione perché sapeva che tanto se Leclerc fosse andato sopra il secondo visto che tanto prima o poi ci sarebbe andato visto che comunque un decimo e mezzo due decime ha tentato l'ultima manovra uscendo all'improvviso come va va anche lì perché poi alla fine il pilota stesso sa che poi è finita non c'hai più o quello davanti sbaglia e allora dici beh posso recuperare una volta che sei fuori il secondo comincia a placonarti 1-1 1-2 mentre diventa sempre difficile sì infatti Leclerc è stato bravissimo a rimanere calmo a sapere di avere vantaggio Verstappen ha visto che quello era l'ultimo attacco che poteva fare l'ha fatto lì non l'avrebbe dovuto fare perché anche andando cioè per andare davanti ha dovuto spiattellare la gomma altrimenti non sarebbe andato davanti oramai erano finiti i giochi erano finiti anche se non erano finiti poi a mente fredda è lì stai guidando la Formula 1 a 300 all'ora non pretendo che lui avesse questa lucidità però il gioco era finito l'unica maniera per sopravanzare Leclerc era sbagliare la curva dopo quindi o piantaglisi davanti però poi dopo Leclerc in accelerazione avrebbe superato oppure farla finita lì e farla finita lui ci ha provato ha spiattellato la gomma ma non è quello che ha cambiato troppo le cose oramai i giochi erano finiti ok perfetto direi che per questa sera è tutto ringrazio Werner che è stato con noi sempre molto prezioso e importante ricordo a tutti di seguirci su Formula 1 News newsf1.it su Facebook su Instagram su Youtube iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nostri contenuti grazie a tutti di nuovo e buona serata grazie a tutti